Questo programma è offerto da... Sei maiala e vuoi sfogare la tua sindrome di porna? Allora prenotati un hotel a Verona per il 28 e 29 maggio Perché tutto lo Zodi 105 sarà al Veip Itali per due giorni Completamente fatti di siga elettronica allo stand della Paffa Adesso faccio come l'è scritta Perché tutto lo Zodi 105 sarà al Veip Itali per due giorni Completamente fatti di siga elettronica allo stand della Paffa Non mancare Amici, oggi mega presigla musicale Andiamo Wender nella parte di Zucca pelata fatti i tortelli Vedente ai suoi fratelli Ivo Avido nella parte di Soldi, 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 quanti soldi Lodati, schiari soldi I bene amati soldi perché DJ Spine nella parte di La figa è una ragnatela Paolo Noiz Nella parte di Pancia, misurati la pancia Ciccione L'altra è a bar a mangiare panini Tranne Pippo in regia e Fabio Alisei Eccomi Sigla Ma perché a Fabio Alisei? Lo sento nascere Lo sento crescere in me E' come un brivido che Non puoi comprendere Quanto è figa la moglie di Quanto è figa la moglie di Mamma mia Mamma mia Mamma mia Oltre ogni limite Ma non ti molla mai Non ti molla mai Ma cazzo fa stare con quella merda Aspetta la fine della sigla Per insultare Non ti molla mai Non me ne è capaci Topano Basta E' lo speracchiazzo Andiamo Basta E' lo speracchiazzo E' lo speracchiazzo E' lo speracchiazz E' lo speracchiazz